Buonasera, sono Marco Volzi, sono un consulente di Firenze, della zona di Firenze. Allora, io questo corso l'ho trovato molto interessante, l'ho trovato molto interessante questo corso, perché veramente con questo strumento si possono aiutare tutti i piccoli imprenditori che hanno tante difficoltà. E' veramente, secondo me, anche semplice da proporlo. Per questo devo ringraziare anche il network che ci sta veramente aiutando in tante cose. Grazie.